Ma la questione di fondo, e l'ha detto prima molto bene, è che i rimpatri non si stanno facendo. No, no, si stanno facendo, sono aumentati del 20%. L'ho ascoltata. Allora, non si fanno i rimpatri in Bangladesh, non si fanno i rimpatri in Libia, non si fanno in Egitto, si fanno solo in Tunisia perché per fare i rimpatri ci vogliono gli accordi. Questa questione dell'Albania è una grandissima presa in giro perché costa più di 800 milioni di euro agli italiani e ai cittadini. In più, non porta nessun risultato del debito, stiamo parlando di un 1% degli immigrati irregolari. E infine, e insisto, il governo non sta facendo niente sui 500 mila immigrati irregolari che sono già nel nostro paese. E che se tu non li, e finisco, se tu non li inserisci in un circuito di legalità, che c'è bisogno anche di mano d'opera, e lo chiedono anche le imprese, stanno in mezzo alla strada e delinquono. Basta usare l'immigrazione per fare campagna elettorale, va a gestire e va a risolta in modo pragmatico. Sono circa 20 anni che sento dire che bisogna gestire la situazione. No, aspetta, aspetta, vorrego. Bisogna gestire, non bisogna democcazare. La Lega ha 12 anni di governo, eh? Pietro, la Lega, 12 anni di governo. Sono orrevole, posso parlare? Di questi ultimi 20 anni. Sono 20 anni che ne parlano e che utilizzano. Bisogna fare, bisogna sistemare. Però io vorrei tornare all'argomento. Siccome ho sentito dire che i giudici hanno applicato solo la legge. No, i giudici non hanno applicato la legge, hanno applicato i loro convincimenti. Perché ho portato questa copertina, questo giornale di Panorama? Perché questo è un giornale uscito a metà settembre. Ok? Quindi molto prima della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Però se voi andate a leggere quello che riporta Fausto Biloslavo in questo numero, spiega quello che diceva il giudice albano, quella che abbiamo visto prima, a proposito della vicenda albanese. In un convegno organizzato dall'ONG il 17 di maggio, quando ancora non c'era nessuna sentenza, non c'era niente, non discuteva di nulla, se non di un accordo, che ancora non aveva visto la luce però del centro di trattenimento, di un accordo tra Italia e Albania. E il giudice albano che cosa diceva? È chiaro che non possiamo convalidare i trasferimenti in Albania. Non c'era nessun trasferimento ancora. Non c'era neanche il campo per accogliere questi. Ma già il giudice albano, senza una sentenza della Corte Europea di Giustizia, che facesse da pecetta, anzi da foglia di fico, non è vero perché è del 4 ottobre, da foglia di fico per questa decisione dei magistrati, diceva che non poteva convalidare quello. Aggiungeva, se il giudice ritiene che l'Egitto non possa essere inserito nei paesi di origine sicura, non potrà convalidare il provvedimento e non si può applicare la procedura accelerata, quella dell'Albania, appunto, perché quindi non potranno stare questi migranti in Albania. Quindi che cosa voglio dire? Era già deciso tutto. Non c'entra niente la giustizia. Non c'entra niente la difesa dei diritti umani. C'entrano i convincimenti di alcuni magistrati.